E' un Brescia che deve ancora crescere, quello reduce dal pareggio casalingo contro il Lanciano, un Brescia che deve lavorare per far sì che le letture della partita siano collettive, lo dice il mister Marco Giampaolo. Non abbiamo fatto male, ma ciò non toglie che dobbiamo fare meglio di come abbiamo fatto. E' la consapevolezza che bisogna lavorare per far sì che le letture della partita siano sempre collettive, quindi è in fase di possesso palla, è in fase di non possesso palla, questa è una squadra che deve pensare e lavorare collettivamente. Nei 95 minuti questo non ci riesce con grande continuità e quindi bisogna continuare a lavorare affinché poi le situazioni di gioco siano lette appunto collettivamente. Buona la qualità del gioco in alcune fasi della partita. La squadra in possesso palla ha cercato di sviluppare, ha anche espresso una buona qualità del gioco, magari non in maniera continua ma nell'arco dei 90 è riuscito a farlo alcune volte sì, alcune volte meno. Dobbiamo imparare a capire meglio alcune situazioni, alcuni smarcamenti, alcune finalizzazioni, ma tutto questo passa attraverso il lavoro. La squadra deve poi migliorare in personalità. Deve migliorare in personalità sicuramente. La partita avrebbe dovuto chiudersi, l'avremmo dovuta chiudere sul 2-1. Lì bisognava portarla a casa con un po' di malizia in più, con un po' di esperienze in più, con un po' di mestiere in più. Quindi da quel punto di vista bisogna sicuramente crescere. La convinzione di poter far meglio sta anche nel mercato, il tecnico si aspetta dei rinforzi. Sono rimasto fermo a quello che ci siamo detti dieci giorni fa. Ma io sono convinto che faremo qualcosa sempre per migliorare questa squadra. È dal punto di vista delle alternative nei ruoli. È dal punto di vista della specificità in funzione di questo sistema di gioco. Però è un discorso che abbiamo fatto, un discorso vecchio, nel senso che le cose ce le siamo dette. Io penso adesso a lavorare, a migliorare la squadra.